Amazon Basics. Con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8.6 su 10. Per questa categoria, risulta al momento essere il più votato con 9.144 valutazioni globali. Le sue peculiarità sono. Facile da gonfiare. Comodo. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Leggero. Robustezza. Allevia il dolore. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Pavillo ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8.6 su un totale di 10 punti. Risulta avere il miglior rapporto qualità-prezzo. I suoi punti di forza sono. Comodo. Facile da gonfiare. Robustezza. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di ActiveR è di 8.4 voti su 10. Al momento è il più esclusivo di questa selezione. I suoi punti di forza sono. Facile da gonfiare. Robustezza. Comodo. Leggero. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. La valutazione finale assegnata a questo articolo di Intex è di 8.8 voti su un totale di 10. Risulta al momento essere il più scontato di questa selezione. Le sue principali funzionalità sono. Comodo. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Robustezza. Facile da gonfiare. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Il voto complessivo di questo articolo di Pavillo è di 8.6 su 10. Questa è la nostra scelta migliore. I suoi pregi sono. Comodo. Facile da gonfiare. Robustezza. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Intex ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8.8 su 10. Risulta il più venduto. Questo prodotto è caratterizzato da un'elevata qualità. È un articolo capace di accontentare un po' tutte le tipologie di utenti. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Grazie a tutti.